jump se l'ha capito? ottimo come un vecchio ma per voi non è così ma e san jump io faccio questo perché sono un tai chi man ma per i ragazzi è bene jump in applicazione è molto importante jump questo è un punto un punto un punto perché se ho armato questo è sensibile sensibile questo questo jump è un punto come un po' come un uomo come un uomo come un uomo ma anche un uomo in un uomo il punto il punto il concepto è come un uomo come un uomo un Qigong un tigre come questo come un tigre e poi gli angeli di questi con gli occhi non lo vedo che si facciano male facendo capito Luigi? ho paura preghi attenzione non questo cut e punt jump e jump come un tigre questo è molto bene non è bene questo 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 non solo per la potenza ma per il punto perché questo e questo sono più effettivi che questo questo è solo per il cuore non è bene il cuore non è bene il cuore polmoni lungi 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 e il cuore 3 questo è solo per il giugolare giugolare questo è c'è questa statua vi raccontavo del celta che tiene la donna morta completamente nudo comunque così e lui si uccide bucandosi qua, quindi non si uccide così, ma si uccide così perché è molto più, come si dice, più effettivo, più efficace, quindi non è dritto, ma è così. Ancora. È impressionante, si coloravano, eh? Come William Wallace. Si coloravano, si, 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 ah ma sono certi, come William Wallace. Guarda che mi ha dato il filo da torcere, anche Cesare c'ha scritto un libro, Giulio Cesare, Broth, De Bello Gallico, come sconfigge i ricentri. Wow, yeah, yes, buono, fai tu Luigi? Si, si, Luigi. Sarà che ha finto? Ottimo. Questo è proprio bello, ancora. Proprio, dobbiamo fare questo oggi, ok? L'ha capito. L'ha capito. Ok, grazie. È bello, non è andato. A te non ti piace il teorellano? No, no, ma adesso lo studierò, come la musica. Lui si don't like, eh. E le volte, KG, eh. If you may subscribe to my channel, I'll be glad.